Professor Mennini, anche quest'anno il volume SIC Sanità in Cifra è scatto a una fotografia della sanità italiana. Quali sono i dati salienti? I dati salienti sicuramente sono quelli relativi a un incremento importante, ahimè, della spesa out of pocket. Sono i dati relativi anche all'evidenziare nuovamente che le risorse, nonostante l'impegno degli ultimi due o tre anni da parte anche del Ministero della Salute del Ministero dell'Economia di incrementare le risorse a disposizione e speriamo che continuino in questa strada, però ahimè sono ancora non perfettamente in linea con il fabbisogno dei pazienti e della popolazione italiana. Questi due aspetti fondamentali ci devono far ragionare in maniera molto attenta sulle azioni che dovremmo perseguire nel futuro prossimo. Innanzitutto per quanto riguarda le risorse da destinare alla sanità ovviamente si spera di anno in anno in un continuo incremento così come sta prendendo le decisioni il Ministro però che deve essere accompagnato anche alla garanzia di un miglior accesso alle cure e questo si può fare senza determinare dei preoccupanti incrementi di sfondamento di budget della spesa sanitaria. Seguendo una logica molto attenta anche del rapporto costo-efficacia delle nuove tecnologie e in questo modo riusciremo anche a garantire una riduzione della spesa out of pocket perché se si segue un criterio così come individuato dal nuovo codice degli appalti di una valorizzazione costo-efficacia degli acquisti nel settore sanitario questo permetterebbe di utilizzare in maniera efficiente le risorse e a questo punto quindi permetterebbe di garantire le cure adeguate ed appropriate ai pazienti. Garantendo cure adeguate e appropriate ai pazienti si potrebbe in questo modo riuscire a ridurre la spesa out of pocket. Ultimo aspetto importante, parliamo anche di cose positive, sicuramente l'approvazione o comunque ormai quasi in atto dei livelli essenziali di assistenza va vista in un'ottica positiva dal punto di vista del futuro della nostra sanità se non altro perché ha individuato e ha ampliato anche la spesa per la prevenzione e soprattutto ha individuato nuovi vaccini che possono ampliare soprattutto l'offerta vaccinale in termini di numero di popolazione che può aderire a queste politiche vaccinali e in questo modo la prevenzione rappresenta sicuramente lo strumento di sanità pubblica più costo-efficaci in assoluto e riusciremo quindi anche a impiegare efficientemente le nostre risorse garantendo un'efficacia dell'intervento sanitario.